Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana. In occasione del 74esimo anniversario, il Convergenza Innovation Center di Capaccio Pestum si veste del tricolore fino a sabato 6 giugno. Un'iniziativa fortemente voluta dal presidente Rosario Pingaro, un omaggio dedicato a tutti coloro che in un momento di grave crisi sanitaria causata dal Covid-19 hanno continuato eroicamente a svolgere il proprio lavoro garantendo servizi essenziali al personale sanitario e alle forze dell'ordine ma anche a chi si è estretto in un abbraccio virtuale restando a casa, a chi riprende con tenacia costruendo nuove quotidianità sempre più connesse e sostenibili. In onore di tutti noi che ne siamo il cuore, pronti a dare nuova energia all'Italia che riparte e resta unita.